Il girone di ritorno inizia alla grandissima per il Francavilla che espugna lo Sporting Club di Nola grazie alle reti dei suoi attaccanti Lonetti e Dauria. L'Azic lascia in panchina Mattias Grandis preferendogli la Vopa, così come tornano titolari Morales dopo Lunguil Fortunio e Giordano. In panchina si rivede Ciavarria. Sul fronte opposto De Sarno sceglie Tagliamonte per il ruolo di centravanti Costoia che si accomoda inizialmente in panchina. Gli ospiti partono bene, al diciottesimo hanno già un'occasionissima per passare in vantaggio, ma su una pennellata dalla destra di Dauria collocolo colpisce in pieno il palo. La risposta dei Brugniani arriva due minuti dopo con il capitano Vaccaro che conclude alto. Al ventisiesimo traversone di Anzalone all'indirizzo di Esposito che da dentro Dauria ci prova al volo ma manda fuori. Al trentatresimo nuovo tentativo di Vaccaro su punizione che esce di poco. Due minuti dopo Napolitano non arriva all'appuntamento su un cross dalla destra. Ma il finale di tempo è tutto di marca sinnica. Al trentasesimo il tiro di Dauria è deviato in angolo con la sfera che sfiori il montante. Al trentottesimo altra conclusione del numero dieci che trova sulla sua strada a Gragnagnello che compie un vero miracolo. 120 secondi dopo protagonista ancora lo scatenato Dauria con l'esmodifensore bianconero che devia sulla traversa. Ma allo scadere i Lucani sbloccono il risultato. Gran numero di Ragone che petti nel pallone mandando al bar Lipiello e Sere Velionetti che deve solo spingere in rete. Si va a riposo con i Lucani meritatamente in vantaggio. Per il rosso-blu i secondi 45 minuti di gioco iniziano come meglio non potrebbero e al quinto, imbeccato da Collocolo, Dauria fugge in campo aperto, salta un avversario, vince un rimpallo e fa secco Gragnagnello in uscita con un destra incollato in cruciare. Ma al ventiduesimo il no la accorcia le distanze con il subentrato classe 98 Stoia che sul lancio di Dan è insacca dopo aver resistito all'intervento di Di Giorgio segnando una rete di pregio peorissima fattura. Il no la prova ad attaccare ma non riesce a impensilire gli uomini di Lasic e la gara termina con una punizione rasoterra di Esposito in pieno recupero che esce sul fondo. Con questo successo il Francavilla sale in settima posizione a quota 26 e si colloca a soli due punti dalla zona playoff.